La P.U.L.O.S. Udine si prepara a tornare in campo già domenica, pochi giorni di recupero per la formazione bianconera, coach Gerosa, come sta la squadra e come state recuperando in questi pochi giorni le energie? La squadra sta bene, con i soliti acciacchi da post partita, stanchezza post partita, ma sta bene, reagisce bene il giorno dopo, come si prepara una partita? La partita si prepara come sempre guardando molto, quando hai poco tempo, guardando molto più te stesso che magari gli altri, quindi cerchiamo di analizzare quello che è stato la partita precedente, cosa possiamo fare meglio e cosa dobbiamo assolutamente fare meglio. Domenica al Carnera arriva all'Urania a Milano, una squadra che ha lo stesso record della P.U.D.I.N.E., che è partita molto bene in campionato e che gode soprattutto di grande talento offensivo a livello individuale con diversi giocatori. Hai detto te bene, è una squadra con un grandissimo talento offensivo, basta citare due nomi, Gentile e Poz, gente che senza dimenticare ovviamente Amato e senza dimenticare Cesana, tutto il contorno. È una squadra che sta giocando un'ottima pallacanestro, una pallacanestro di grande intensità, che mette in difficoltà tutte, basta vedere anche le ultime due sconfitte che ho avuto, le ho avute tutte nell'ultimo minuto praticamente, sempre stato in partita e sempre stato anche sopra. Quindi sarà una partita veramente tosta, veramente difficile, una partita molto fisica, ma dobbiamo restare compatti e continuare nel nostro processo di crescita, nel nostro processo di solidità, davanti al nostro pubblico che sicuramente ci sarà quella mano in più per riuscire a portare a casa il risultato. Ciao!